alibaba una delle azioni più sottovalutate del mercato salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi faremo il video finale tra virgolette il video generale su tutta la mia tesi di investimento in alibaba perché lo facciamo perché ovviamente è un titolo che seguo da quattro anni è un titolo che conosco molto bene dato che lo possiedo anche in portafoglio in una percentuale abbastanza rilevante di quest'ultimo e soprattutto uno di quei titoli che più mi interessa approfondire proprio perché ormai è diventato un braccio di ferro tra chi ci crede e chi non ci crede perché dopo tutto questo tempo e tutto quello che si è detto su questo titolo ormai i fatti devono parlare il tempo passa e ovviamente un buon investimento non si misura in quattro anni però inizia a essere comunque un time frame medio sul quale si può dire abbiamo avuto ragione o meno sulla propria tesi voglio fare quindi questo video per sia avere un diario di bordo magari tra un anno per vedere appunto dove sarà e soprattutto cosa si diceva in questo momento per capire i sentimenti di mercato e soprattutto per riassumere le principali ragioni per le quali ritengo che sia ancora un ottimo investimento per il mio portafoglio e soprattutto per le mie propensioni al rischio questo non vuol dire che io consiglio l'acquisto di questo titolo anzi consiglio a tutti di tenervene alla larga da qualsiasi tipo di investimento consigliato da qualcuno su youtube in generale sul web dovreste fare le vostre opportune conclusioni i vostri opportuni studi questo vuole essere un diario di bordo e quindi non è assolutamente da intendersi come consiglio finanziario sulle citazioni all'investimento quindi partiamo dopo anni di difficoltà con appunto un ipo non portata a termine da parte di ent group con un blocco da parte della cina e una mega multa da 15 miliardi per appunto pratiche scorrette di mercato manipolazione di quest'ultimo eccetera alibaba ha iniziato entrare in una spirale di problematiche che si sono intersecate tra di loro e sono che hanno portato il titolo da valere 320 dollari a circa a valerne in questo momento circa dai 75 ai 70 il titolo ha fatto parecchi roller coaster ha fatto parecchi spike ha toccato un minimo 58 dollari nel 2022 e attualmente sta scontando una serie di vicende apocalittiche tra cui appunto la guerra taiwan che qui varrebbe più o meno a un suicidio finanziario per qualsiasi tipologia di stato che voglia fa solo pensare che ci possa essere un attacco in questo momento considerando che la cina è la fabbrica del mondo apple produce a taiwan dalla foxconn invidia produce praticamente quasi tutto tutto grazie a tsmc tutte le maggiori multinazionali americane sono dipendenti da multinazionali cinesi o taiwanesi quindi sarebbe veramente un macello escludendo queste ipotesi quindi che non ritengo un'ipotesi plausibile al momento perché non ci sono neanche militarmente le risorse da parte della cina per poter condurre un attacco di queste entità le altre cose che hanno pesato molto sono il fatto che comunque sia un modello via i ovvero un modello variable interest entity dove non si possiede di fatto un'azione con diritto di voto ma solo un'azione che dà diritto a un dividendo e alla plus valenza o alla minus valenza sul capital gain in base alla direzione che prende il titolo questo perché la legge cinese vieta a qualsiasi cittadino non cinese di possedere titoli cinesi e quindi si è trovata una scappatoia dove c'è una società di commodo alle caiman che tramite dei contratti diventa la sussidiaria quotabile in borsa tramite ipo sulla quale si può investire quindi c'è la quotazione a hong kong e la quotazione al nise da parte di alibaba che è una delle principali quotazioni del titolo che sono le principali quotazioni del titolo che però non permettono di avere diritto di voto un altro rischio specifico rischio paese il fatto che comunque la cina non supporta attivamente in questo momento le corporation perché è in una lotta continua con problemi macroeconomici interni molto importanti tra cui la crisi immobiliare e la deflazione primo punto di vantaggio primo punto di tesi di investimento sull'ibaba è proprio questo economia in difficoltà da parte della cina scarsa voglia di fare consumi da parte dei cittadini cinesi unica azienda sta spingendo veramente tanto cap in duo duo tutte le altre aziende cinesi sono in difficoltà l'ibaba cresce comunque del 9 per cento annuo con un'economia deflazionistica che quindi ha una crescita negativa con un denaro che anziché perdere valore acquista valore le persone sono meno incentivate a spendere l'economia si contorce e alibaba comunque aumenta il fatturato questo è interessante perché questa crescita del fatturato è completamente decorrelata dall'economia e se si dovesse stimolare l'economia con del denaro cosa che la cina non sta facendo ok sicuramente si potrebbe avere degli effetti anche su titoli come alibaba perché la cina non stimola l'economia perché sicuramente ha paura del fatto che stimolare l'economia vuol dire stampare yuan ora il minbi come li volete chiamare voi stampare moneta senza avere la moneta sovrana senza avere il dollaro equivale a svalutarla parecchio e in un contesto incerto pieno di sanzioni come quello attuale sicuramente non è una strategia che nel lungo periodo gioverebbe alla cina la loro moneta dato che comunque ritengono l'opzione dello stampaggio come ultima istanza dato che l'america la usa sempre loro invece sono un po più resti a usarla proprio perché non hanno una valuta che gli permette di esporsi in maniera così aggressiva con del debito sul mercato mondiale dato che comunque i reminbi sono utilizzati solo in cina e per fare degli scambi tra paesi brics che sono i paesi appunto dell'alleanza cina russia sud africa brasile argentina russia sud africa brasile arabia saudita iran eccetera e quindi comunque ha un utilizzo che non è come quello del dollaro che si scambia per qualsiasi transazione di petrolio a livello mondiale se vediamo dal punto di vista business alibaba è molto più diversificata rispetto a pin duo duo e jd questo porta alibaba essere il maggior e commerce asiatico quello con il maggiore fatturato quello con la maggiore market share ma soprattutto con la maggiore diversificazione di business cosa che ovviamente la porta a essere un golem l'elefante nella stanza se deve cambiare qualcosa nel suo business ed è per questo che sicuramente il mercato la sta massacrando dal punto di vista delle quotazioni perché fa fatica ad innovare ha dormito banalmente come abbiamo visto negli ultimi video su alibaba però dall'altra parte questa diversificazione fa sì che se una parte del mercato in cui operano i competitor viene meno lei c'è sicuramente altre branche di business che sono già sviluppate o che si stanno sviluppando che possono compensare queste problematiche terzo punto secondo me di vantaggio di alibaba è l'e commerce internazionale cosa che solo bindo duo sta spingendo tanto con timu ma timu ovviamente abbiamo già visto che ha diversi punti tra virgolette di problematica soprattutto per noi investitori occidentali tra cui la scarsa trasparenza il marketing aggressivo e soprattutto il fatto che apparentemente da quello che si è letto in giro pindu2 perde circa 30 dollari ad ordine su timu dal punto di vista che regalano la roba fondamentalmente quindi è una guerra dei prezzi a cui alibaba ha voluto in parte partecipare con aliexpress choice che è una parte dell'app di aliexpress sulla quale potete acquistare a prezzi scontati dei prodotti però il vantaggio che alibaba ha è che questi prodotti che sta dando con uno sconto letteralmente fanno sì che il cliente ritorni dato che sono prodotti di qualità io ho acquistato una luce il porta microfono diverse cose su aliexpress choice si spende poco la roba arriva dopo due tre settimane e arriva intera ho provato a gestire anche un reso mi hanno dato i soldi indietro quindi funziona tranquillamente tutto nonostante sia una spedizione dalla cina basta solo fidarsi ecco di una compagnia che veramente ottimo quarto punto interessantissimo questo detto dal mio amico natan che saluto vi lascio qua appunto il punto nel suo thread su twitter e il fatto che è scambiata con un forward p di 8 7.9 addirittura e questo forward p è lo stesso di verizon si avete capito bene verizon la compagnia di telecomunicazione americana come sapete tutti immagino e le compagnie di telecomunicazioni a partire da dopo il 2000 dalla bolla.com hanno avuto sempre e comunque una difficoltà nella crescita anche in italia compagnie come team come compagnie inglesi come vodafone eccetera o compagnie comunque internazionali fast web eccetera fanno fatica a crescere t mobile in america verizon sono compagnie pressoché utilizzate dagli investitori per il dividendo perché fanno fatica a crescere perché operano in un mercato dove stai letteralmente vendendo una commodity perché se io mi serve internet per la casa non è che vado da qualcuno che mi dà internet migliore di qualcun altro perché la velocità della rete è quella e tutti più o meno scambiano la stessa velocità e magari mi trovo male con qualcuno vado da qualcun altro ma se c'è un abbonamento per il cellulare che mi costa uno 7 euro l'altro 9 euro sicuramente vado su quello che mi vale 7 euro perché le chiamate sono sempre quelle e l'internet è sempre quello ovviamente può cambiare la velocità di connessione in base a quanto la zona è più o meno coperta dal segnale però come è successo con iliad appena entra un player sul mercato che tira giù i prezzi sono tutti costretti a tirarli giù perché nessuno ha un vantaggio competitivo rilevante sugli altri al parte la pigrizia delle persone che sono con un gestore di dover appunto attivare un nuovo piano con un altro gestore però relativamente comparare un'azienda come alibaba con le prospettive di crista di alibaba con il fatto che alibaba distribuiscono dividendo così basso rispetto ai dividendi distribuite delle compagnie di telecomunicazioni e dargli lo stesso metro valutativo è assurdo soprattutto considerando che il cloud appena la cina sbloccherà finalmente la possibilità anche appena i cittadini cinesi si renderanno conto che il cloud è fondamentale per crescere come amazon ha dimostrato a tutti che è letteralmente tutta la rivoluzione a partire dal 2020 è stata generata grazie al cloud di amazon e microsoft e google anche alibaba si deve rendere conto che deve spingere da questo punto di vista il cloud deve crescere di nuovo a doppia cifra per portare delle valutazioni più interessanti mi rendo conto che sia cina ma non è neanche possibile che un'azienda del genere con dei fatturati del genere con un management del genere faccia un fatturato di questo tipo faccia abbia una valutazione di questo tipo pari a verizon con tutto rispetto di verizon però stiamo parlando di settori completamente diversi prima vedere appunto le metriche ancora più interessanti alibaba c'ha circa 63 miliardi di net cash quindi cash al netto dei debiti che sono circa il 35 per cento della sua market cap e soprattutto la sua generazione di free cash flow annua è di 21 miliardi quindi costiranno i 180 miliardi di valutazione togliamo 35 a 145 ne genera circa 21 all'anno di free cash flow quindi di cassa pura al netto delle spese in conto capitale quindi vuol dire che circa in sette anni alla valutazione attuale l'azienda potrebbe completamente ricomprarsi se il prezzo rimane flat e lei acquista con i buyback una cifra consistente pari appunto al free cash flow ad esempio apple c'ha 50 miliardi di net cash mentre alibaba ne ha circa 13 di più e apple è valutata 3 trilioni alibaba è valutata 180 miliardi non dico che alibaba sia meglio di apple perché sarebbe una cavolata astronomica quella che starei dicendo però sicuramente se andiamo a vedere per esempio amazon amazon non ha per niente questo cash in cassa ma comunque vale un trilion e 5 un trilion e 7 e letteralmente non ha metriche di bilancio che possono giustificare una valutazione così più elevata rispetto ad alibaba se non il fatto che alibaba è altamente sottovalutata dal mercato e non è amazon che è sopravvalutata e questo secondo me è un giusto punto di vista cioè non è che è amazon che viene ipervalutata dal mercato è semplicemente amazon è americana opera anche in occidente in maniera eccellente un'ottima azienda alibaba è massacrata sia dal suo stesso governo sia dal fatto che gli investitori non ripongono fiducia in cina in ogni caso come abbiamo detto nell'ultimo video su alibaba nell'ultimo quarter correzione 2.5 per cento di buyback sull'intero circolante delle azioni quindi le azioni sono diminuite del 2,5 per cento nei last 12 months quindi negli ultimi 12 mesi le azioni sono diminuite del 5 per cento in totale quindi se si continuasse a diminuire circa il due e mezzo per cento per quarter se facciamo l'interesse composto sarebbe circa un 12 per cento in meno anno su anno per nel prossimo anno di azioni se i prezzi fossero flat avremo comunque un guadagno considerevole in termini di flusso di cassa per azione e soprattutto di revenue per azione a questo punto mi sorge spontanea una domanda ti sei iscritto al canale sei iscritto ai miei social mi raccomando passa sul mio canale discord ore 22 ogni martedì live gratuita e soprattutto passaci perché ci saranno molte news importanti e vi tengo aggiornati su tutto quello che faccio quindi link in descrizione per il mio canale discord inoltre iscriviti al canale condividi il video bene siamo arrivati alla fine del video spero che video vi sia piaciuto ho cercato di condensare tutto quello che volevo dirvi su alibaba in un piccolo video ma che spero che vi dia valore se vi è piaciuto il video supportatemi con un like un commento una condivisione ma soprattutto se avete la possibilità e la voglia con un super grazie quindi una tips vi lascio qua la mia mail se volete farmi una donazione su paypal in ogni caso ci vediamo nel prossimo video ringrazio tutti per l'attenzione se non ti occupi tu di economia sarà l'economia occuparsi di te ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti